Ciao a tutti ragazzi, io sono Alice e bentornati sul nostro canale di gameplay dopo mille anni. Finalmente porto un video che mi piace tantissimo e non vedevo l'ora di portarlo a dir la verità perché è il mio gioco preferito, Heyday, come avrete letto dal titolo, però purtroppo io non sapevo se andasse bene portare questo contenuto. Però ho visto che sta andando fortissimo e quindi ho detto perché non portarlo io che sono una veterana e sono a livello 58? Ebbene sì ragazzi, io sono a livello 58 di Heyday, però ve la faccio vedere, la mia fattoria assolutamente, a fine video vi faccio vedere la mia bellissima fattoria, però mi sembrava bello riniziare da capo con voi, quindi rifarò tutto passo passo, ma sappiate che se volete vi lascio il nome qua sotto in descrizione, potete aggiungermi così ho anche più posti nella bancarella se mi aggiungete. E niente, iniziamo subito, ci siamo, sono troppo felice, troppo felice. Allora, iniziamo subito, vabbè, come sempre lo spaventapasseri qua ti spiega che devi radere il grano, tutte cose che io già so, so già tutto perché vabbè mi piace da morire, cioè io veramente ragazzi non studiavo pur di giocare a questo, per farvi capire a che livello sono io. Insomma mi piace veramente tanto, ok, sto riseminando. Ci vuole tempo perché i semi crescano a ciascun campo da due colture quando è lavorato. Ora bisogna ripennellare la casetta, poi penso che bisogna, ecco, anche il silo e anche il granaio, quindi l'abbiamo pennellato. Ora ci dice, cioè vi faccio vedere qua, aumenta la capacità, ti dice che la tua capacità è di 50, devi arrivare a 75. Come fai ad arrivare a 75? Aggiungendo tipo un bullone, un asse e un nastro isolante. Stessa cosa per il silo, devi ovviamente crescere, quindi però adesso bisogna cercare il materiale che è molto difficile. Ok, qua ho sbloccato il primo pollaio e devo comprare le mie prime tre galline. 10, morte ovviamente, tutte morte. Ah, non me le fa comprare tutte 6. Io ne voglio già comprare 6. Adesso vi voglio provare a vedere se posso fare quello che voglio. Io ne voglio già comprare 6. Me ne fai comprare 6? Oh, là. Tutte vicine le mette, belle morte. Allora, però per comprarle devo dargli da mangiare. Eh, sì. E dove lo faccio? Dove non c'è il mangimificio? Mi serve il mangimificio per fare... No, ah, ecco qua ti chiede se vuoi... No, no, no. Ah, la bancarella la sblocco a livello 7, ok. Niente, devo semplicemente aspettare che il grano continui. Ho sbloccato il nuovo livello, il livello 2. Bene, nel livello 2 penso che io possa comprare, ecco qua, la panetteria. Compriamo subito la panetteria che ci vogliono 7 secondi per farla. Bei tempi quando per costruire un monumento ci volevano 7 secondi. Adesso ci vogliono tipo 3 giorni. Eccoli qua. Ci sono le farfalline, ecco, classico. Facciamo il pane. Facciamo subito un po' di pane. Ah, eh, ho solo due posti, ok. Ah, devo fare ancora 7 stelline. E se faccio 7 stelline, arrivo al livello 3. Porca miseria, non mi ricordavo, che figo. Con 7 stelline arrivo al livello 3. Poi se arrivo... Devo subito arrivare al livello 7, così sblocco la bancarella e inizio a comprare. E a vendere profitti, profitti. Il pane ci vogliono 5 minuti, ok. Niente, devo aspettare che si faccia il pane, ragazzi. Ok, ho scoperto che questo qua era per farmi raccogliere prima le uova. Ok, ho sbloccato il nuovo livello, perfetto. Ok, arriva. Ehi, sono Mike, gestisco il vecchio mulino. Come è chiamato questa bella fattoria? Mi fa dare un nome, ovviamente. Fattoria di Mircola, ma perché? Fattoria di Alice. Ok. Sono contento che qualcuno si occupi di questo posto. Bene, a presto. In teoria, io vi consiglio di non vendere mai a questi qua che arrivano, perché... Pagano di meno rispetto alla bancarella, quindi... Aspettate un pochettino. Ah, ho già messo nel... Ok, posso già comprare... Ecco, posso comprare il mangimificio, quindi... In 39 secondi faccio il mangime. E cos'altro mi fa comprare? Ah, altri pezzi di terreno. Eccoli qua. Il grano è pronto e lo ammietiamo. E invece è pronto anche il mangimificio, quindi possiamo far da mangiare alle galline. Abbiamo... Ah, abbiamo sbloccato il furgone. Possiamo fare le consegne, possiamo fare le consegne. Si guadagna! Si, 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 si. Infatti, vedete? La prima consegna è già pronta, perché ho tre uova già da dare. Ok, facciamo... Diamo da mangiare alle galline morte. E creiamo nuovo mangime per le galline. Intanto il pane è quasi pronto. Mettiamo altro grano e altro grano turco. Una nuova consegna è pronta. Il grano si sta facendo. Tra poco facciamo altre consegne. Anche qua, le consegne non ve le consiglio ai livelli alti, perché ovviamente se voi producete roba e la vendete in bancarella, molto meglio. Non vedo l'ora di farvi vedere la mia fattoria. Dai, livello 7, dai. Devevo arrivare a livello 7. Dai, dai, dai. Obiettivo di questa puntata arrivare al livello 7. Mi chiamo Joan e mi chiede se posso venderle il pane. Io uno adesso glielo regalo per far vedere quanto costa con la tipa che vi compra le cose. Ma in realtà poi voglio farvi vedere quanto costerà in bancarella. Ok, le nuove consegne mi mancano 4 di grano. Eccoli qua. Pronti. Ho sbloccato un nuovo livello. Mi hanno dato i primi chiodini, che sarebbero questi per ingrandire il silo. Quindi poi mi manca... Allora, il chio... Mi hanno dato i chiodi, poi mi mancano le viti e mi mancano i pannelli di legno. E dopodiché posso allargare il silo. Invece qua ancora non ho un tubo di niente. Allora, facciamo gli altri ordini. Fatto un altro ordine. Intanto... Oh, mannaggia. Ah, mannaggia, la soia ci vuole 20 minuti. Facciamo più consegne che riusciamo, così almeno ci facciamo un po' di soldi e cresciamo. Guarda, i bambini dell'esilo ti hanno mandato un bigliettino per ringraziarti. È realistico, sembra proprio un disegno vero. Abbiamo altro spazio perché abbiamo sbloccato un nuovo livello, quindi mettiamo altro terreno. Ok, finalmente possiamo piantare altre cose. Ecco qua. Ragazzi, quando si sblocca la bancarella andiamo a comandare. Vediamo gli altri ordini, cosa mi chiedono. Due di grano turco. È quasi pronto il grano turco. C'è un baule. Eccolo qua! Ho vinto 5 diamanti! Vediamo quanto grano ho. No, mi conviene ripiantarlo prima di venderlo, altrimenti non ne ho abbastanza. Vabbè, questo lo faccio partire, dai. Questa consegna la faccio partire. Ecco Greg. Chi è questo maccione? Mi chiede. Questo è Greg che viene e mi chiede qualcosa. Sicuro. Ciao, sono il tuo vicino. Se hai bisogno di attrezzi, vieni da me e vedrò da accontentarti. È vero. Allora, praticamente Greg ogni giorno sulla sua bancarella ha qualcosa di diverso. e quindi sì, è vero. Tre uova. Tre uova, ok, sono quasi pronte. Il grano è quasi pronto. Sì, praticamente le prime puntate, i primi livelli sono tutti incentrati sul Devo piantare tanta roba per fare tanti rifornimenti, dopodiché quindi posso fare le prime consegne. Poi per fortuna dopo diventa più veloce. Eh, ho vinto una tavola, ho vinto una tavola, evviva. Facciamo quest'altra missione. Mancano due stelline, raga, e sono al livello 6. Livello 6, livello 6. Posso nel livello 6 sbloccare le mucche e quello che fa il latte, perfetto. Quindi, sblocchiamo subito qualcosa di nuovo perché, oh mamma mia, se no... Allora, l'eccesso delle mucche lo metto qua per ora. È tutto disordinato, lo so, ma non ho le seghe per togliere gli alberi. Vedete che sono seghe, poi le bombe per togliere le pietre. Insomma, un po' di roba. Il mangime, il caseificio lo mettiamo qua per ora. No dai, due ore! Non lo voglio di aspettare. Ho usato 16 diamanti. Non si dovrebbe, in teoria, aspettare 16... Cioè, non dovete sprecare i diamanti, eh, mi raccomando. Allora, mettiamo le mucche. Tutte belle morte, anche questo. Vi hanno dato il primo mangime, ora facciamo il mangime per le mucche. Ah, mi serve la soia per fare il mangime per le mucche, mannaggia. Con la mami, tu. Ok, allora, ho tre barattoli di latte di mucca, quindi posso fare la nuova missione, quella da 101 stelline. E quindi arrivo finalmente al livello 7, vado. Adesso, quando torna il camion, mi dà le ricompense, quindi sia soldi che stelline. Cosa mi dice qua? Ah, che le devo dare il cibo, ma non ho ancora la soia. La soia sta crescendo, è ancora qui. Dieci minuti ancora. Mamma mia, che lento. Ragazzi, siete pronti? Livello 7. Eccoci, eccoci. Abbiamo sbloccato la bancarella. Vamonos. Era ora. Dunque, posso iniziare a vendere e farmi un po' di soldi. Cosa vendo? Questo è il punto. Vabbè, vediamo dieci di questi. E poi dieci di questi. Ok, in teoria ora mi faccio un po' di soldi, anche se devo iniziare a... No, dovevo piantare le canne, mannaggia. Ah, posso comprare già qualcosa? Ecco, lo zuccherificio, ma non ho abbastanza soldi. Invece qui posso prendere ancora... Ah, questi sono pronti. Allora, sto prendendo gli ultimi pezzi di terreno. Sì, non mi piace così. Il pane è pronto. Vendiamo anche un po' di pane. Vendiamolo questo pane, dai. E lui mi chiede roba. Inizia già a chiedermi roba, ma io non ne ho. E poi anche se ce l'avessi, ora che ho sbloccato la bancarella. Col cavolo che glielo do a lui. Col cavolo. Ecco i primi soldi presi dalla bancarella. Tra pochissimo riesco... Andiamo un po'? Rivendo il 3.72. Ok, adesso devo rifare il grano. Tra pochissimo riesco a comprarmi lo zuccherificio. Ok. Ho venduto qualcos'altro. Perfetto. Appena ci siamo che il grano finisce, metto la canna da zucchero a prodursi. Così almeno ho un po' di canna da zucchero. Ho comprato della canna da zucchero. Adesso vedete, posso ingrandire il granaio perché ho trovato il bullone. Quindi faccio che ingrandire il granaio da 50-75. Perfetto. Beh, direi che per questa puntata ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto abbastanza cose. Ora ci tengo a farvi vedere la mia fattoria. Mamma mi chiami nel momento... Mia mamma. Mamma, sono a casa, sto registrando. Eccola qui la mia fattoria a livello 58. Visto che sono tantissimi anni che gioco io. Vabbè, potevo essere ancora più alta di livello. Però la verità è che non ho solo questo da fare nella mia vita. Altrimenti ha voglia. A parte che a volte mi devo proprio trattenere perché sono sempre su sto gioco. Non si può così. Comunque, aspettate che devo vendere due o tre cose. Volevo farvi vedere giusto due cosine. Qua gioco tutto veloce perché... Allora, vi faccio vedere il mio posticino magico del mondo. Allora, le mucche. Tre recinti. Tre recinti di porci. E tre recinti di pecore. Tre recinti di capre, galline, api. Immagini ufficio. Qua ci sono tutte le mie cosine carine. Le more, le mele. Tutte le fonderie, la miniera. Ah, vi faccio vedere anche il mio... Il mio posto con le anatre. Poi io, in realtà, qua posso pescare anche i gamberi. Vabbè, insomma, se poi volete vi faccio anche... Ah, ecco, questa cosa devo farla, tra l'altro. Perché mi sblocca. Ok, ci sono. Mi credo da un po' che non entravo qua, quindi... Cioè, da un po'. Giusto due o tre ore. E niente. Vedete che carina. Tutti i miei macchinari. I miei animali. I miei gattini. Uno di questi si chiama Nala. Devo solo trovarlo. Eccolo qua. Nala. Nalu. Bimba. Wow, anche il pavone, vedete? Vabbè, insomma, un sacco di cose su questa fattoria. Mi piace, sono molto proud di questa cosa che ho fatto. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Lasciate un like o un commento. E noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Ciao, ragazzi. Lascia un commento. Metti mi piace. Cosa ti costa? Dai che sei capace. Mirko Alice Game. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Buongiorno. E la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia. Vissuta da eroi. La coppia che scoppia. È un'esplosione. Mirko e Alice dentro il nostro cuore.